essere in orbita alla fine è uno stato continuo di caduta libera in cui tu continui a cadere è come se tu cercassi di cadere sulla terra ma siccome la terra è rotonda è come se ti sfuggisse via e tu continui a scivolare attorno alla terra bella raga nuovo appuntamento nuovo passa dal basement ci siamo benvenuti questo vuol dire nuovo ospite che viene a trovarci io sono particolarmente felice ed emozionato ciao peraltro io sono gialluca gazzogli se ancora non l'avete fatto e vi va iscrivetevi a questo canale di modo che non perdete neanche proprio neanche un episodio questo è stato incontrato un sacco di gente tutti mi dice ma se mai non avevo visto la sto recuperando iscrivetevi se ci state ascoltando su youtube se ci state ascoltando su spotify fatelo anche lì così veramente potete gustarvi guardarvi tutti gli episodi ascoltare tutte le chiacchierate dicevo sono particolarmente emozionato perché devo dire che l'ospite che è passato a trovarci a gela insomma è la cosa più vicina al supereroe che io che io conosca voi sapete quanto io sia appassionato al mondo dei supereroi mi verrebbe da dire anche puntata spaziale perché attenzione dal basement è passato l'astronauta dell'esa samanta cristoforetti tutto vero tutto vero grazie io dico grazie in primis come prima cosa poi ne diremo tante altre però è veramente prezioso grazie grazie a te dell'invito e tra l'altro possiamo anche dire che se abbiamo un parcheggio proprio per l'astronavi noi di modo che è proprio è proprio un attimo è proprio un attimo no a parte a parte gli scherzi è proprio perché dicevo veramente la cosa più vicenda insomma nello spazio cioè stiamo parlando proprio di qualcosa di che per noi che siamo qui è veramente la cosa più vicina ai supereroi alla fantascienza ea tante altre a tante altre cose però ovviamente la prima domanda sempre come stai cioè come come è questo momento della della tua vita insomma preso bello bello vabbè ormai è un po che sono tornata dalla seconda missione sono tornata all'ottobre dell'anno scorso anche se mi sembra ieri quindi sono sicuramente tornata alla vita alla vita terrestre che bellissima anche la vita terrestre molto molto presa da da tante cose anche così sul sul futuro su come continueremo a scrivere questa questo questa storia un po fantascientifica dell'esplorazione spaziale anche magari con qualche ambizione in più da parte italiana europea eh sì perché sono sono ovviamente tante le le tematiche la prima in realtà la più banale te la te la chiedo perché ho detto sono tornato ormai da da un po di tempo no siamo praticamente quasi a un anno dal dal rientro questa puntata più o meno uscirà in un momento in cui tanti italiani rientrano da esperienze da cose eccetera e dicono sempre mamma mia che trauma rientrare che ma rientrare allo spazio credo sia leggermente più traumatico quanto tempo ci vuole prima di riprendersi dipende la prima volta secondo me ci ho messo di più è stato più uno shock che il rientro perché in realtà la vita terrestre complicata invece la vita nello spazio in un certo senso ha una sua semplicità è un ambiente confinato che che se vogliamo sia alle sue difficoltà e peculiarità tecniche anche così magari la mancanza di comfort che deriva dal da questo ambiente particolare però non ha il traffico non andare a far la spesa non ha le mille richieste di famiglia amici lavoro eccetera eccetera in un certo senso tu entri in questa dimensione così di quotidianità di routine molto regolata molto limitata anche con l'interazione eccetera e ti ritrovi in questo in questo mondo complesso della vita vera terrestre per cui che ne so esci di casa la mattina poi era prima del del covid quindi cioè si andava al lavoro tutti i giorni non c'era il teleworking magari qualunque sia un po' per cui che ne so esci la mattina devo uscire in tempo perché devo contare il traffico devo banalmente mettere nello zaino tutte le cose che mi servono per la giornata quando tu sei sulla stazione spaziale sta tutto là diciamo la quotidianità è un po è un po diversa mi è quasi convinto che sia molto più semplice ma ovviamente so che so bene che non è so bene che non è che non è così e che insomma sono sono tante le cose ogni volta che si parla di spazio che tutti noi immaginiamo e che insomma grazie anche al tuo al tuo lavoro qualcosina adesso riusciamo anche a immaginare in modo un po più concreto cioè a vedere qual è stata la cosa più bella che sei riuscita a trasmettere secondo te durante le tue le tue esperienze beh questo ovviamente non sarebbe non sarebbe a me dirlo però credo che ci sia stata una una dimensione di partecipazione forse questo non perché sono io ma perché sono state in quest'ultimo decennio un susseguirsi di missioni di vari astronauti europei e naturalmente di vari noi astronauti italiani di missione di lunga durata quindi di queste missioni di più o meno sei mesi prima c'erano le missioni brevi quelle di una due settimane è difficile creare un rapporto con il pubblico con i cittadini e le cittadine in uno o due settimane mentre quando tu hai queste missioni lunghe di sei mesi credo che le persone iniziano ad abituarsi pensare quasi che hanno questa questa amica o questo amico nello spazio a voler un po seguire gli aggiornamenti non dico quotidianamente ma magari di settimana in settimana e quindi forse si è creata una maggiore familiarità con questo mondo e questo è fatto un utilizzo anche dei social per raccontare questa cosa veramente intelligente interessante più che altro perché poi a me sembra anche che ci sia un rinnovato amore per il mondo del degli astronauti dello spazio cioè una di quelle cose che se chiedi a un bambino oggi cosa vuoi fare da grande ancora ti dice l'astronauta cioè era una cosa che ti dicevano tanti anni fa ma è una cosa che ti dicono anche oggi non so se ha sicuramente aiutato quello che stai facendo tu quello che stanno facendo tanti tuoi colleghi e anche un po forse il periodo in cui viviamo non lo so ma mi sembra che ci sia sempre più un maggiore interesse verso lo spazio è una cosa che riscontri anche tu è una mia sensazione no sicuramente c'è un attaccamento anche emotivo a questo a questo mondo a molte quando fai l'astronauta sei spesso confrontata con la fatidica domanda ma perché dobbiamo spendere soldi nello spazio eccetera eccetera e quindi e ovviamente ci sono delle risposte molto concrete a questa domanda anzi forse uno dei come dire investire nella competitività anche del nostro settore spaziale forse uno degli investimenti più intelligenti che possiamo fare per la nostra crescita prosperità anche sicurezza in prospettiva ma però a livello proprio più affettivo se io ti dicessi domani smettiamo di far volare astronauti comunque penso che a tante persone qualcosa mancherebbe no anche se magari non riescono ad articolare perché non è il loro mestiere il motivo però una sensazione che qualcosa manca forse ci sarebbe è come se si smettesse di sperare non lo so è un po' una sensazione di questo un po' una sensazione di questo genere anche solo dirlo effettivamente ha fatto un po' ha fatto un po' impressione anche perché insomma non è sentivo una cosa che avevi detto un po' di tempo fa che praticamente ci sono generazioni che vivono cioè che da quando sono nate ovviamente le più recenti ma da tanti anni ormai c'è sempre qualcuno lì nello spazio sì dal 2000 dal 2000 che non c'è da chi è nato dal 2000 c'è sempre convuto qualcuno lì in alto al minimo minimo due persone al minimo due persone che sono che sono anche credo che siamo arrivati a 14 credo forse chiaro beh però questo è ovviamente significativo e prima parlavi appunto del delle ambizioni anche perché adesso non è che quando quando non sei nello spazio sei giù a fare tante cose che ti preparano forse a tornare nello spazio o a far tornare altre persone eccetera come funziona appunto il lavoro se dovessi spiegare quello che fai quando non sei nello spazio beh dipende ogni astronauta e ogni momento è diverso che ne so tra la mia prima e seconda missione per esempio o per un paio d'anni ho seguito un'iniziativa molto bella che abbiamo al centro degli astronauti europei a colonia che si chiama Spaceship EAC EAC è The European Astronaut Center e questa astronave EAC è un'iniziativa per per giovani studenti di delle varie università europee che vengono da noi a fare ricerca su cose veramente un po' fantascientifiche quelle quindi tecnologie assolutamente immature a volte proprio solo delle idee concettuali di come di come si potrebbe supportare l'esplorazione proprio sulla superficie della luna magari da qui a vent'anni quindi ho fatto quello per un paio d'anni un paio che sarà una piccola stazione spaziale che volerà attorno alla luna quella proprio già in fase di di costruzione in parte negli Stati Uniti e in parte significativa qui in Italia il capo commessa industriale la nostra azienda a Torino Tasi per il modulo abitativo e poi c'è stata la seconda missione e da quando sono tornata sono sono molto coinvolta nella così nella preparazione di una di una proposta da parte dell'agenzia spaziale europea per aumentare un po' le nostre le nostre ambizioni no perché teniamo presenti ho fatto una prima missione nel 2014 e ho volato sono bellissima ho volato con la Soyuz russa ho fatto una seconda missione l'anno scorso e ho volato con un veicolo americano quindi bisogna attualmente rendersi conto che sì storicamente abbiamo fatto dei passi significativi come Italia e come Europa negli anni sessanta e settanta guardavamo in televisione la luna eccetera anni ottanta novanta inizio anni duemila c'erano le missioni di breve durata dove c'erano delle come dire degli accordi ad hoc per far volare un nostro astronauta magari con un con un esperimento particolare oppure proprio si pagava si pagavano che ne so i russi per far per un'opportunità di volo di un di un nostro astronauta questo ovviamente non succede più adesso da quando c'è la stazione spaziale internazionale da quando noi siamo proprio partner lì è come se fossimo coproprietari di questa struttura i nostri astronauti volano perché sono diritti maturati per il fatto che noi abbiamo contribuito alla costruzione e contribuiamo al continuare a operare questa questa struttura e però non abbiamo mai sviluppato un nostro veicolo spaziale che permetta di far volare astronauti e questo chiaro credo sia l'ambizione adesso è il naturale step successivo anche perché come dire il mondo attorno a noi corre cioè ormai non è più come quando sono diventata astronauta alla fine 15 anni fa alla fine mi sembrava abbastanza normale che veramente capaci di andare nello spazio fossero solo i russi gli americani i cinesi stavano appena iniziando nel frattempo sono ovviamente rimasti i russi gli americani con un'azienda privata spacex a cui se ne affiancherà un'altra almeno forse anche due i cinesi nel frattempo hanno dimostrato di saper fare tutto in orbita bassa e anche nodi di atterrare su marti di atterrare sulla luna con rover e gli indiani erano nelle news poco tempo fa con il loro lander che ha atterrato sulla luna e questo in europa non l'abbiamo mai fatto anche solo far atterrare un lander non esseri umani ma proprio un lander robotico sulla luna non l'abbiamo mai fatto c'era un progetto tanti anni fa dieci anni fa è stato cancellato e adesso ce n'è uno nuovo in corso che però arriverà a completamento verso la fine del del decennio gli indiani vogliono anche far volare esseri umani inizieranno tra tra un paio d'anni no quindi in questo mondo in cui no tanti tanti sono capaci di far volare esseri umani rimaniamo solo noi europei che non non abbiamo questa quali quali sono le motivazioni secondo te cioè gli investimenti storicamente si è deciso di non di non investire in questa cosa ripeto c'era un po la sensazione che ma sì andava bene così cioè l'effettiva capacità di trasporto ce l'avevano i russi gli americani magari cinesi e noi a fronte di investimenti importanti ma relativamente contenuti avevamo il beneficio comunque di poter far volare gli astronauti di far volare i nostri esperimenti eccetera e ripeto va bene perché in quella fase comunque era una traiettoria se vogliamo di crescita no però bisogna continuare a crescere soprattutto in un mondo in cui tutti gli altri non è che si sono fermati infatti noi io dico noi perché parlo di quelli che stanno giù col collo alzato e guardano in alto cioè vediamo un po quello che succede ok siamo molto orgogliosi perché vediamo samanta cristoforetti vediamo nespo gli abbiamo visto parmitano insomma e quindi per noi credo che wow l'italia sta spaccando cioè ragazzi cioè prima capitano donna insomma che roba è in realtà poi le cose sono un po diverse nel senso come single c'è come diciamo astronauti però poi c'è tutto questo questa parte dietro che invece evidentemente non si vede cioè nel senso però quanto in proprio per questo motivo qua perché è così importante esplorare e andare nello spazio per se voglio ovviamente ci sono persone magari anche come me che risponderebbero che è una cosa importante in sé se vogliamo per uno spirito di esplorazione di affrontare di ampliare le frontiere però questo mi rendo conto che magari ognuno poi ha i suoi interessi magari uno diceva bene però non interessa di più che ne so lo sporto e va benissimo ci mancherebbe quindi parliamo magari proprio di benefici concreti credo che uno se lo può guardare come come una sorta di cipolla se vogliamo no intanto se non abbiamo la capacità di lanciare sia cargo che esseri umani nello spazio ci ci perdiamo tutte queste attività nell'orbita bassa terrestre che iniziano a diventare sempre più commerciali sono ormai meno la frontiera perché ormai l'abbiamo ripetuto prima sono vent'anni che ci sono esseri umani lassù e sta diventando più un un ambito economico tanto è vero che gli americani ormai il loro trasporto lo lo hanno tramite dei contratti proprio commerciali con dette private questi veicoli sono proprietari di dette private dopo la stazione spaziale internazionale che ci sarà entro fino al 2030 ma non per sempre in orbita bassa ci saranno stazioni commerciali a parte quella cinese che insomma è un mondo un po' a parte però le altre stazioni spaziali che sono in sviluppo dall'industria americana saranno private saranno delle strutture private dove uno deve trovare il modo di acquisire comprarsi l'opportunità di andarci di fare esperimenti eccetera quindi rischiamo come dire invece che andare avanti di tornare indietro di dover comprare il biglietto per no sia per trasportare i nostri astronauti sia per la possibilità poi di stare a bordo fare esperimenti eccetera quando invece al contrario se se questa capacità noi la sviluppiamo siamo anche noi che possiamo sfruttare questo nuovo ambito commerciale sia per il trasporto appunto di eventuali anche clienti paganti privati se per il per trasportare come dire clienti tra virgolette istituzionali magari di altri paesi che non hanno una loro capacità sia anche proprio di aggregare delle partnership internazionali diplomatiche eccetera e questo poi ci permette anche di piano piano acquisire quelle capacità che ci permetteranno anche in ambito di esplorazione lunare di essere dei partner un pochino non dico alla pari con gli americani perché sarebbe velleitario ovviamente però insomma un pochino più alla pari con un gap di capacità un pochino un pochino minore questo poi si riflette su tutta l'industria spaziale a quel punto è un'industria spaziale molto più forte molto più competitiva in tutti i settori a ruolo spazio ci sembra comunque e me penso una cosa una cosa ancora un po lontana ma in realtà è le capacità che sono rese possibili dallo spazio sono sono come dire sono sono incorporate nella nel tessuto delle nostre città nei nostri stili di vita dalle sistemi di navigazione all'osservazione della terra alle comunicazioni e ci sono tantissime questo lo dicono studi economici tantissime possibilità di aumentare il valore di settori economici più disparati dall'agricoltura alle assicurazioni alla finanza alla medicina sfruttando meglio e anche innovando e creando nuove modalità di utilizzo per esempio dei dati che vengono dalle e quindi un'industria forte competitiva in europa che riesca a giocarsela nei confronti di competitor americani e cinesi è importante importante per per il nostro futuro per la nostra prosperità alla fine sì anche gli storicamente ci sono stati dei periodi che per tanti motivi si sono concentrati molto la corsa alla luna piuttosto che altre cose dei motivi invece in cui dei dei momenti dei dei periodi in cui invece passava quasi in secondo piano il discorso dello spazio oggi se ne parla di nuovo tanto anche perché come dici tu spacex insomma il personaggio di lo mas che ha tirato fuori tutta questa discussione questa privatizzazione dello spazio mettiamola così fa bene o fa male ad alcuni come come tutto ad alcuni può far bene ad altri far male però può essere uno stimolo a dire cioè può essere uno stimolo quasi competitivo di dire ok però adesso va bene tutto ma facciamo noi esattamente esattamente cioè perché a volte c'è la tentazione di dire vabbè però che ne so se appunto spacex può offrire questi servizi a prezzi competitivi ma non conviene anche a noi semplicemente andarceli a comprare la spacex ho detto sì ho capito ma in questo modo ipotechi il tuo futuro che vuol dire che anche nel lungo termine queste cose poi tu non le sai fare potrebbe cambiare il contesto potrebbe aumentare i prezzi potrebbero esserci talmente tanti customers esigenze eccetera che tu devi mettere in fila potrebbe cioè troppo strategico lo spazio per dire per dire così in maniera un po miope no vabbè ma io vado a comprare sul mercato perché è meno costoso che sviluppare le mie capacità in questo settore non si può troppo strategico e anche strategico per questione di sicurezza cioè basta insomma abbiamo una guerra alle porte di casa credo che anche le esigenze come dire di mantenimento della sicurezza della pace siano diventate anche un po più presenti e salienti nella mente di tante persone lo spazio è un dominio fondamentale riconosciuto ormai codificato anche nella dottrina del degli aspetti diciamo di difesa e sicurezza si è un tema ovviamente fortissimo e prima parlavi insomma di quanto poi anche l'esplorazione la tecnologia spaziale poi in realtà impatta anche no nella nostra vita e noi probabilmente non lo sappiamo cioè ci sono delle cose che noi utilizziamo oggi tu prima citavi il navigatore o altre cose che probabilmente erano state pensate prima per lo spazio e poi anni dopo noi le usiamo vera questa cosa ci sono un po di strumenti che ti vengono in mente di cose che voi avete utilizzato molto prima e che poi di riflesso sono state utili anche per noi sulla terra e nel caso della navigazione ma anche dell'osservazione della terra sono sono cose che sono nate in realtà come servizi ai cittadini però c'è ancora molto 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 margine per integrarli di più nei vari settori della società che ne so pensiamo all'agricoltura tu potresti usare una combinazione di dati di osservazione della terra quindi di guardare dall'alto che ne so lo stato di salute lo stato di irrigazione del tuo terreno agricolo combinato poi con un sistema satellitare che ti permette di irrigare in maniera precisa di rimettere il come dire le sostanze adesso mi sfugge la parola per incrementare l'output agricolo in maniera precisa quindi c'hai tutta una serie di di possibilità di di margine di ottimizzazione per massimizzare il tuo output per minimizzare lo spreco per ridurre i costi no e questo in tanti altri settori dai trasporti alla medicina proprio anche una questione di ricerca nel senso che ci sono anche possibilità anche di ricerca in in assenza di peso che che sono molto che sono molto interessanti quindi questa sinergia tra vari settori economici industriali e le capacità dello spazio è ancora assolutamente non completamente sfruttata ci sono dei margini assolutamente anche perché leggevo anche non so di tessuti che utilizzate voi che poi dopo in realtà vengono riadattati anche alla vita terrena c'è anche cose più banali sì sì questo è diciamo l'ambito così un po degli 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 spin off uno interessante per esempio c'è un sulla stazione spaziale ci sono tre congelatori si chiamano melfi sono congelatori a meno 80 gradi che sono critici per la possibilità della stazione spaziale di produrre output scientifico perché se tu raccogli dei campioni nella maggior parte dei casi li devi congelare per poi poterli testare a terra e sono tre congelatori che abbiamo fornito noi dall'agenzia spaziale europea li produce una un'azienda francese e che hanno funzionato perfettamente su una delle poche cose sulle stazioni spaziali che non sia mai rotta diciamo che tutto funziona bene o male però magari ha bisogno di un po di manutenzione ogni tanto incredibile fantastici che io sappia hanno sempre funzionato perfettamente ed è stata una tecnologia che hanno ottimizzato grazie insomma a questo a questo contratto che poi hanno sfruttato molto nel mondo delle metaniere che sono diventate insomma un po critiche in questione di approvvigionamento energetico negli ultimi anni perché si tratta un po dello stesso principio di dover mantenere una temperatura molto bassa ok prima citavi citando sempre i vari paesi ad oggi qual è quello più avanti di tutti nel mondo dello spazio l'america stati uniti sempre stati uniti e quello che investono anche ordini di grandezza un botto di soldi un botto di soldi e prima invece dicevi io sono diventato un astronauta quindici anni fa quasi quasi va beh ma qual è il momento esatto in cui si diventa un astronauta beh si può discutere diciamo si diventa un astronauta da un punto di vista di contratto di lavoro esatto ci viene assunti dalla agenzia nel mio caso dall'agenzia spaziale europea quindi quando si è passato un processo di selezione per cui si diventa astronauti in realtà adesso astronauti è un termine che ha perso questa connotazione così rigida nel senso che si chiamano anche astronauti quelli che comprano il biglietto che vanno a fare li chiamano astronauti privati oppure quelli che vanno a fare il giretto su virgin che fanno i pochi minuti di volo parabolico li chiamano virgin astronauts proprio loro hanno un'etichetta a parte diciamo no vabbè magari loro invece si percepiscono anche come come insomma quindi dipende un po da che però l'astronauta classico che viene assunto tramite un processo di selezione da un'agenzia spaziale diventi astronauta nel momento in cui ti selezionano e ti assumono poi però uno dice astronauta veramente lo diventi quando vai nello spazio quando passi almeno con i fatti di 100 chilometri e tu personalmente quando conti il tuo il tuo conteggio più o meno no questi 15 anni sono dalla selezione dalla selezione ok 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 il discorso del brevemente perché l'abbiamo accennato il turismo spaziale cioè esiste fattibile esiste è nato di fatto c'è stato quella quella quello che tu citavi prima è quel quel viaggio che hanno fatto che poi non sono andati realmente sono andati sono tornati questi sono questi voli suborbitali questo è proprio un altro mondo nel senso che a livello di complessità tecnologica energie coinvolte eccetera è proprio e anche di costi è completamente un altro mondo credo che vendano i biglietti forse mezzo milione per questi però li fondamentalmente quello che fai è sali e a un certo punto se si spegne il motore di questo veicolo e tu fai questa sorta di traiettoria ballistica cioè continua a salire perché ti sei preso l'abbrivio diciamo poi a un certo punto inizia a riscendere e questo veicolo diverge un via a terra su una pista con una cosa interessante per l'amore del cielo però non è una giostra di disneyland molto molto bella nel senso cioè perché alla fine vai su cos'è un momento in cui vedi effettivamente ci sono alcuni minuti in cui sei in assenza di peso perché sei in questa fase ballistica in cui stai volando quindi vivi quell'esperienza in parte esatto esatto per per alcuni minuti e poi poi si si riscende giù quindi in quel caso tra virgolette essere andato nello spazio è come dire lo mettono in relazione alla quota che hai passato tra l'altro poi c'è questa discussione 100 chilometro 80 chilometri perché credo che la origine arrivi solo 80 mentre la origine arriva 100 quindi dettagli invece il volo spaziale vero e proprio è quello dove vai anche in orbita effettivamente ci riesci la grossa differenza che tu ci andare nello spazio uno magari se non ci pensa tanto non ho mai riflettuto su queste cose pensa che sia una questione di andare in alto di quota in realtà è solo in parte una questione di quota perché se tu acquisisce solo quota succede come in questi voli suborbitali che tu come sei salito riscendi certo quello che ti serve per restare in orbita ed è lì che c'è la grande energia di cui tu hai bisogno è la velocità hai bisogno di acquisire una velocità tale che ti permette di restare in orbita per cui tu cadere cadi sempre perché la gravità c'è ma siccome stai anche andando molto veloce 28 mila chilometri all'ora più o meno invece che cadere sulla terra cadi intorno alla terra cioè essere in orbita alla fine è uno stato continuo di caduta libera in cui tu continui a cadere è come se tu cercassi di cadere sulla terra ma siccome la terra è rotonda è come se ti sfuggisse via continui a scivolare attorno alla terra quella è la sfida quella la difficoltà quella la difficoltà perché lì c'è un'energia il turismo spaziale in che cosa lo vogliono fare allora il turismo spaziale c'è stato io l'anno scorso pensate ero siamo partiti da houston insieme al mio equipaggio una domenica che doveva essere cinque giorni prima del nostro lancio alla fine siamo partiti nove giorni dopo insomma c'è stato un ritardo significativo perché a bordo della stazione spaziale il nostro parcheggio il nostro punto di attracco era occupato da il primo di questi voli privati in questi che chiamano private astronaut missions missioni di astronauti privati e quelli erano effettivamente veramente puramente quello che noi forse nell'immaginario pensiamo come turisti spaziali cioè i classici tre miliardari un americano un canadese un israeliano una barzelletta no no scherzo scherzo tutti molto attempati incluso il comandante invece che michael lopez allegria che è uno storico ex astronauta a nasa quindi questi quattro signori un po' attempati erano i primi visitatori privati della stazione spaziale siccome non riuscivano ad atterrare perché c'era molto vento in quei giorni e dragon che è questa astronave con cui poi siamo partiti anche noi ha dei limiti di vento abbastanza stringenti perché se ci sono onde molto alte possono esserci dei problemi strutturali e quindi si aspettava ogni giorno che calma che si calmasse questo vento in modo che loro potessero tornare beh è chiaro che se dovesse prendere piede questa cosa bisogna incastrarla con tutte le attività che fate anche voi c'è un po di traffico anche lì e se no finisce finisce infatti nasa ha l'obiettivo di farnevolare almeno un all'anno di queste missioni private perché fa parte un po' di questa loro idea appunto di commercializzazione dell'orbita bassa di come dire di stimolo anche all'attività private quindi loro ci tengono moltissime quindi in qualche modo cercano di miscilarle sì chiaro c'è già stata una seconda missione lì già un po diversa perché c'era la comandante peggy watson che lei appunto storica astronauta nasa ex pensione tra virgolette dalla nasa e poi tre paganti erano uno sì il miliardario classico gli altri due invece due astronauti sponsorizzati dal governo dell'arabia saudita quindi tra virgolette due astronauti governativi sauditi che la prossima missione sarà molto simile vedremo cosa succederà comunque è un grande tema anche molto curioso anche perché c'è gente ovviamente che spera di poter fare un giro un giro nello spazio sembra impensabile però ci sono tante cose che oggi facciamo costose diciamo che bisogna iniziare a mettere i soldini nel salvadanaio perché purtroppo per adesso parliamo di decine di milioni diventa complicato però non so col passare degli anni diventerà più accessibile non cresce stiamo parlando comunque di tecnologie enormi potrebbe esserci naturalmente c'è questa rivoluzione in ancora in sospeso che potrebbe succedere nel nel mondo dell'accesso allo spazio che starship super heavy questo lanciatore molto grande con questo upper stage che può essere a sua volta un'astronave se vogliamo che è in sviluppo da spacex c'è stato un test all'inizio di una primavera di quest'anno che forse qualcuno qualcuno ha visto il test non ha avuto successo ma non era neanche previsto spacex a quell'approccio un po così dove loro testano sapendo che sarà un ferro però lo farò e quindi e poi presumibilmente pensa nei prossimi mesi ci sarà un secondo test se loro dovessero effettivamente dimostrare che hanno successo con questo con questo approccio potrebbe essere veramente una rivoluzione completa dell'accesso allo spazio quel punto dobbiamo ripensare tutto e come non tanto come si accede allo spazio ma come si diventa un astronauta cioè tu raccontavi 15 anni fa circa indicativamente si è diventato un astronauta seleziona quanti ce ne sono di astronauti quelli quelli attivi all'agenzia spaziale europea siamo noi sette della classe del 2009 poi ne abbiamo appena selezionati cinque nuovi che hanno iniziato il corso a maggio che insomma presumibilmente penso il primo la prima volerà 2025 una cosa così 25 26 e poi abbiamo selezionato questa volta anche una schiera di cosiddetti astronauti di riserva tra cui due italiani bravissimi che sono andrea patassa e antea comellini giovanissimi bravissimi una antea è un ingegnere aerospaziale e andrea è un pilota collaudatore dell'aeronautica militare e che non non abbiamo assunto e fatto iniziare il corso in questo momento perché diciamo che anche per l'equilibrio tra nazioni eccetera eccetera in questo momento non funziona però sono selezionati come dire hanno passato la fase di selezione sono riconosciuti come i migliori in questo gruppo di candidati e quindi sono lì e il primo in realtà che è uno svedese volerà su una di queste missioni privata perché la svezia ha acquisito un'opportunità di volo per lui e probabilmente la stessa cosa faranno i polacchi e gli ungheresi quindi diciamo paesi un po più piccoli dell'ese dell'agenzia spaziale europea che magari storicamente non hanno avuto opportunità o ne hanno avute meno che stanno approfittando anche loro di questa possibilità di comprare questi voli però torniamo un po quello che dicevamo prima cioè stiamo comprando voli dagli altri da aziende da aziende americane insomma sarebbe meglio che questa capacità ce la sviluppassimo in casa ce la potremmo fare come come veniamo visti noi italiani nel vostro ambiente cioè allora in ambito e in ambito di volo spaziale umano in realtà siamo abbastanza un brand consolidato se vogliamo soprattutto su quello che è abitabilità allora ripeto non abbiamo mai sviluppato un'astronave da nessuna parte in europa quindi questa è una cosa che banalmente non abbiamo mai fatto non sappiamo fare già non sappiamo fare potenzialmente sappiamo fare ma lo dobbiamo dimostrare però tutta la parte dei moduli abitativi dei moduli pressurizzati immaginarci lo spazio dove c'è grosso modo ovviamente non è completamente vero ma immaginiamoci il vuoto e tu se vuoi respirare hai bisogno di aria sotto pressione devi devi ricreare la stessa pressione che c'è sulla sulla terra e quindi a questi moduli che sono come delle grandi lattine di alluminio se vogliamo in cui devi mantenere l'aria all'interno con delle perdite il più possibile contenute e questi moduli pressurizzati li fa li fa torino li fa thalessa linea space a torino un po per tutti alla fine nel mondo occidentale ivi comprese industria americana che quando ha bisogno di un modulo pressurizzato anche loro dicono se lo fanno tanto bene a torino facciamolo lì facciano loro e compriamo quindi da questo punto dice un po di made in italy anche un brand un brand consolidato e anche sul sulla figura fisica cioè sull'astronauta nel senso come 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 ci sono confini pregiudizi anche nel mondo degli astronauti inteso nel mondo dello spazio nell'azienda come in tanti altri ah no c'è l'italiano si l'italiano è un creativo l'italiano è o lì non c'è nessun tipo è un mondo perfetto perfetto no però dove non ci sono non ho mai percepito questo tipo di associazione grande sempre ma perché alla fine credo che prevalga il fatto che comunque tutti sono bene o selezionati cioè se sei lì c'è un motivo sì e poi siamo tutti un po con lo stampo nel senso selezionati in base agli stessi criteri quindi c'è un po anche il percorso è lo stesso ecco il percorso che si fa per per arrivare a fare l'astronoma i percorsi sono anche abbastanza diversi diciamo che ci sono due macro percorsi uno è quello i classici che sono quello via diventi pilota molto spesso pilota militare magari pilota collaudatore o collaudatrice e poi vai a fare l'astronauta oppure l'altro percorso quello che viene dalle materie tecnico scientifiche quindi che ne sa preso una laurea in fisica un laurea in ingegneria poi fatto un dottorato poi eccetera e poi ci sono un po di profili misti che sono un po come il mio ma anche per esempio il mio collega francese toma pesche siamo tutti e due come dire di formazione universitaria ingegneri però poi siamo diventati piloti io pilota militare in aeronautica lui era un pilota di air france quindi questa questa specie di mix di esperienza di formazione tecnico scientifica ingegneristica e invece un'esperienza di volo che devo dire come avere un mix così non è male perché poi quando arrivi come dire conosci entrambi i mondi soprattutto per chi viene dal invece puramente dal mondo tecnico scientifico ingegneristico però di solito sono persone che si portano dietro qualche esperienza che noi chiamiamo operativa cioè che ne so avere fatto magari delle spedizioni in luoghi remoti oppure che ne so essersi fatti un periodo in una base in antartide sei fatto proprio solo come dire puramente un'attività di ricerca magari un po difficile perché qualcosa di operativo deve averlo fatto e durante immagino tutto questo cioè il percorso è lungo nel senso quanto quanto ci è messo a diventare astronauta ad essere selezionata la selezione nostra durata un anno quest'ultima che abbiamo fatto credo sia durata anche significamente di più perché intanto sono arrivate allora alla nostra selezione eravamo in 8.500 candidati validi quest'ultima sono arrivate 22 24 mila domande una cosa sta aumentando nelle nuove generazioni c'è grande c'è grande interesse quindi già molti più candidati da scremare soprattutto all'inizio quindi ci hanno messo un po di più poi c'era covid che ha rallentato un po di cose quindi alla fine credo che loro siano stati in ballo almeno un anno e mezzo ma lì come funziona fai tu una domanda di partecipazione e si non una domanda non sollecitato ovviamente ci sono c'è una call che si apre cioè l'esannuncia poi noi l'abbiamo annunciato insomma cercato di pubblicizzarlo il più possibile che stiamo cercando nuovi astronauti il giorno tot si aprirà questo sito dove potete andare a scaricare i moduli oppure riempire online i questionari adesso non so esattamente e poi di solito c'è un periodo più o meno di un mese in cui questa call rimane aperta e chi vuole cittadini ovviamente degli stati membri dell'agenzia spaziale europea e possono mandare la loro la loro domanda e credo nel nostro caso sicuramente ma credo anche nell'ultima selezione sia richiesto un certificato medico che certifichi almeno uno stato minimo di salute credo il certificato medico che quello che sarebbe richiesto se vai a fare la licenza di volo privato così almeno abbiamo una scrematura iniziale che ci sia un minimo di salute beh devi essere cioè sbaglio anche le diottrie anche la vista deve essere la vista sì non so adesso mentirei se dicessi che so i dettagli dei requisiti medici comunque erano erano pubblicati però sì quello diciamo è proprio il minimo in modo che noi come dire sappiamo che vale la pena poi di continuare che ci sia quel certificato medico minimo poi c'è una settimana intera di test medici che fa parte della selezione ovviamente non per tutti c'è un certo punto quando ormai i 20 e passa mila sono diventati un numero minore quel numero minore in base alla tua esperienza secondo te quali sono le caratteristiche al di là di quelle fisiche eccetera però quali sono le caratteristiche principali e al di là dello studio delle conoscenze che deve che deve avere chi vuole intraprendere questo tipo di percorso ma c'è molta attenzione a aspetti di personalità e relazionali perché alla fine un mestiere dove forse conta di più il team che non la performance individuale cioè diciamo ovviamente minimo di competenze individuali ci devono essere non dico di no però poi quella ce l'hanno tante persone no per la fine magari quello che fa la differenza è quanti che capacità e in termini di comunicazione di gestione della delle relazioni di lavoro in team di come ti ti poni nel nei confronti della degli altri membri del team di quanto riesce essere leader quando serve ma anche follower quando serve insomma tanta della della fase di selezione sono sono test di questo tipo beh a questo dire che che importa parte nella vita normale importante però li ha ancora di più dove il concetto che non sei tu sei una squadra ovviamente una cosa fondamentale e quando quando sei andata tu la prima volta su quando te l'hanno comunicato cosa cosa hai provato molto sollievo nel senso che non è che sia arrivato come un fulmine a ciel sereno ovviamente era era più o meno nell'aria da queste assegnazioni bene o male sono sempre un po nell'aria però hai sempre il timore che qualcosa qualcosa vada storto che uno cambia dall'ultimo momento che succede no ma forse è meglio che va prima quell'altro quell'altro quindi insomma è stata una cosa che era bene o male nell'aria proprio quando l'ho vista scritta nero su bianco è stato un grande un grande grande sollievo e mi sono sentita e sono quelle cose che come dire ti cambiano immediatamente il modus cioè il modo in cui pensi il modo in cui ti senti perché nel momento in cui tu viene assegnata poi sei sei su questa specie di macchina che si mette in moto no e soprattutto all'epoca adesso è un po' diverso cioè i tempi sono più compressi però io all'epoca fui assegnata formalmente a inizio 2012 per un volo a fine 2014 quindi tu sai che in questo momento dell'assegnazione tu sei su questa sorta di rullo di road to dove si mette in moto tutta questa macchina anche tutte queste persone inizia ad avere tutti questi points of contact nei vari nei vari settori inizia ad avere un medico assegnato a te uno scheduler assegnato a te una tutte che sono tuttrice tutta questa squadra che si crea che si mette in moto in modo che tu due anni e mezzo dopo sia pronta però lì hai un obiettivo nuovo in quel caso di il nuovo focus che è quello di andare mi ha colpito che avevo sentito raccontare in passato che ovviamente quando ti chiedono ma cosa hai provato quando sei uscita la prima volta è molto concentrata su quello che che dovevi fare che quasi non dico però un minimo insomma quando hai realizzato quello che stava succedendo di che cosa che cosa hai provato ma forse quello a cui riferisce a te la passeggia l'uscita si si uscita passeggiate l'attività extraveicolare dell'estate dell'estate scorsa lì veramente è un momento di pura concentrazione sul presente è la classica being in the zone quindi non credo non c'è non c'è spazio almeno io l'ho vissuta così non c'è spazio né per l'emotività né per pensare cosa successe prima cosa successe dopo cioè io ero veramente concentrata ma proprio qual è il prossimo gesto che faccio qual è il prossimo perché lì è abbastanza tricky la passeggiata spaziale che ho fatto perché russa non americana perché gli americani comunque hanno un cavo di sicurezza per cui tu esci lo attacchi a una specie di anchor point e poi questo si srotola con te quindi se dovesse succedere quello che ovviamente ognuno si augura che non succeda che tu ti stacchi dalla stazione spaziale bene o male c'è questo cavo d'acciaio che ti riporta quasi all'anchor point mentre i russi non hanno questa cosa loro fanno una sorta di sistema stile via ferrata per chi magari ha fatto le vie ferrate quindi c'hai due due cavi di sicurezza con due moschettoni che sono attaccati a te e tu li attacchi tutti e due però quando però ti devi spostare lungo la stazione spaziale ne sposti uno mentre ti ha agganciato l'altro sposti l'altro però non sono adesso li hanno un po' migliorato però non sono proprio super user friendly questi moschettoni quindi devi stare un po' attenta perché rischi se non stai attenta che ti sembra di averlo messo ma in realtà non è veramente fissato e quindi soprattutto io ero la mia prima la primissima uscita eccetera e cose quindi ero proprio molto concentrata su prossimo movimento prossimo gancio perché lì ti distrae un attimo un po' di sicurezza diciamo ti perdi lost in space veramente lì perché si esce a fare la passeggiata perché avviene questa cosa in generale le esigenze possono essere mi piace comunque l'immagine della passeggiata è molto bella è molto bella o si tratta di attività manutentive perché si è rotto qualcosa queste spesso poi sono attività come dire in urgenza anche no nel senso si è rotta una pompa di raffreddamento fuori bisogna uscire e ripararla oppure sono attività chiamiamole se vogliamo anche di manutenzione magari più di upgrade di miglioramento che sono più programmate nel nel tempo che ne so negli anni hanno sostituito sulla parte americana della stazione tutte le batterie negli anni recenti hanno installato tutta una serie nuova di pannelli solari aggiuntivi rispetto a quelli che c'erano precedentemente e nel mio caso si trattava di di una piccola attività diciamo di riparazione e poi tutto un attività tutta una serie di piccole attività di preparazione per per cose poi che sarebbero arrivato in futuro relative al braccio robotico europeo c'è un braccio robotico fornito dall'agenzia spaziale europea che ha sul segmento russo della stazione spaziale quindi per questo l'attività quindi prima di partire tu già sapevi che avresti fatto la passeggiata praticamente c'era la possibilità questa sì diciamo che io purtroppo non avevo potuto concludere completamente l'addestramento perché ero lì quando è scoppiata quando c'è stata l'invasione della dell'ucraina quindi è stata una situazione anche per me emotivamente molto drammatica eccetera e quindi sono dovevo fare tre sessioni in piscina di addestramento e oltre ad altre che avevo fatto precedentemente e ne ho fatta solo una di queste tre perché poi mi hanno riportata mi hanno fatto uscire dalla dalla russia e e quindi in realtà era un po si è discusso molto nel senso l'avrei fatta lo stesso pur già nel senso c'è stata molta discussione sul fatto che fossi o meno sufficientemente addestrata a causa di questa cosa quindi in realtà è rimasta in forza per un lungo periodo poi insomma anche la situazione politica però c'è stata e si è si è si è fatta come un record di permanenza praticamente su in orbita no hai fatto forse c'è stato un certo punto nel frattempo ci sono stati altri già fatto quasi 200 giorni praticamente fatto 200 giorni nella prima missione si credo che il record e poi il record dall'epoca fosse forse la missione più lunga per una per una donna ok poi c'è stata una missione molto più lunga successivamente di christina cook che ha fatto quasi un anno quindi 200 su il tempo passa velocemente lentamente mamma mia ma io almeno il tempo nello spazio non è mai bastato davvero ho avuto la viola considero una fortuna entrambe le missioni mi sono state sono state allungate di un mese rispetto al previsto mi ha sempre grande gioia samantha purtroppo devi fermarti su un altro in realtà era diventato un running joke a bordo perché soprattutto con i leg che era il russo comunque ho fatto anche la passeggiata spaziale perché il secondo il primo la prima volta è stato perché un veicolo russo progress ha avuto un incidente un veicolo di rifornimento quindi non è arrivato e siccome la siccome il veicolo fondamentalmente è lo stesso di quelli che lanciavano gli esseri umani hanno dovuto fare tutta una serie di investigazioni prima di lanciare l'equipaggio successivo e quindi hanno chiesto a noi di stare un pochino di più questa volta è stato sopra una barzelletta veramente questa ma il il booster del del razzo che doveva portare l'equipaggio successivo nello spazio quindi di spacex in viaggio dalla california alla florida sul camion sul trasportatore via terra a un certo punto dovevano passare sotto un ponte hanno sbagliato la procedura io non lo so praticamente sono andati contro il ponte ha distrutto tutto e quindi hanno dovuto non mi ricordo poi se hanno riparato questo booster se ne hanno dovuto prendere un altro insomma qui anche lì c'è stato un pochino di ritardo è andata lunga per questo che sia il riflesso è tu che sei rimasta su e quindi c'era questo running joke del tipo no ma questo è un amico di samantha mario che sette anni fa lavorava a baiconure a mano messo la progress quest'anno organizzata il conducente del camion c'è questa figura che tu metti in giro per boicottare e farti restare di più nello spazio questo famoso mario è plausibile e quindi questo ti fa capire anche perché su tu sei molto impegnata cioè com'è la giornata tipo del nello spazio allora sì la giornata lavorativa inizia verso le sette e mezza c'è un po come magari in ufficio c'è la riunione ok c'è la riunione tra non solo tra di noi voi su siete adesso è però una sorta di riunione di coordinamento con i centri di controllo quindi si parla prima con houston poi gli americani hanno un secondo centro di controllo a hansville che si occupa delle delle attività scientifiche poi si parla con munich monaco dove c'è il centro di controllo europeo poi si parla con su cuba in giappone dove c'è il centro di controllo giapponese e poi si dà la parola ai cosmonauti che parlano con con mosca una cosa di 10 15 minuti dove ti ti spiegano se c'è stato qualche cambiamento se durante la notte mentre tu dormivi è successo qualcosa di rilevante se ti rispondono eventuali domande che gli hai fatto la sera prima tu puoi fare delle domande eccetera quindi una sorta di piccolo così coordinamento di solito ti chiedono di andare a fare un reboot di due o tre laptop che nella notte si sono impallati in termine tecnico è chiaro succede anche nello spazio i computer si impallano anche nello spazio buona sapersi non i computer che controllano ecco sì diciamo quelli diciamo noi i classici windows e poi ognuno va a fare le sue attività che sono sono programmate da terra c'è proprio una squadra di schedulers che il loro mestiere di mettere tutte le attività in qualche modo sull'agenda della giornata delle giornate della settimana dei mesi nella maniera più ottimale possibile quindi tu guardi e dici magari te lo sei guardata il giorno prima ma insomma che ne so dalle otto alle undici devo fare questo sperimento dalle 11 alle 11 20 devo fa st'altra cosa dalle 11 20 alle 11 40 quest'altra insomma che possono essere appunto esperimenti o attività di manutenzione perché è una macchina complessa in cui sei in cui lavori attività banalmente di carico scarico perché quando ti arrivano tonnellate di rifornimenti e il veicolo non si scarica da solo quindi bisogna tutto questo in assenza di gravità in assenza di peso di peso quindi lì ti muovi sì ti muovi dandoci delle spinte così continuamente poi primi all'inizio magari tutti sono un po goffi un po impacciati un po anche pericolosi perché arrivano e sbattono contro tutto poi nel giro di un paio di settimane va molto meglio nel giro di un paio di mesi hai acquisito molta familiarità per cui sai esattamente come spingerti per arrivare la usi la metà della forza e sei dall'altra parte della è quella cosa lì ti abituarsi cioè è quella forse la cosa più difficile poi a cui abituarsi no o a disabituarsi quando scendi si è un po il contrario si abituarsi non so io beh dipende ci sono persone che effettivamente stanno un po male i primi giorni alcune anche parecchio io su questo sono sempre stata fortunata me ne sono goduta fin dall'inizio l'assenza di peso che è una cosa bella se non stai male così è proprio bella da subito ovviamente appunto con queste questa goffaggine iniziale queste difficoltà eccetera però mi è piaciuta da subito mi sono divertita e tornare invece pesante perché lì al contrario devi passare dalla leggerezza alla pesantezza diventa più complicata l'addestramento in che cosa c'è l'addestramento ti prepara tutto questo l'assenza di peso sì e no nel senso che non è che si possa addestrare l'assenza di peso si può fare dei voli parabolici ne avevo fatto qualcuno i voli parabolici ti permettono di fare sono questi aerei che fanno appunto queste parabole nel cielo e tu mentre sei in questa questa fase ballistica diciamo nella parabola poi come dicevamo prima dei voli suborbitali solo che invece che andare a quella quota è una parabola molto più piccola quindi hai 22 secondi di invece che alcuni minuti come chi va a fare quei voli tu c'è un po di meno i voli parabolici sono degli aerei normalissimi sono normalissimi un po adattati e tu vai a fare una un volo parabolico di solito questo questo aereo ti fa 30 parabole ogni parabola sono 20 22 secondi di assenza di peso quindi questa è tipicamente l'esperienza che hai di assenza di peso quando vai nello spazio però non è quello cioè non è un problema non è avere sperimentato la sensazione il problema poi di saper gestire la quotidianità le cose gli oggetti che ti perdi tutto il cibo com'è il cibo non è male in parte liofilizzato in parte sono delle pouch di cibi pronti in parte sono cose come le compri al supermercato magari impacchettate tipo che ne so le caramelle le noci le cioccolate non c'è quella cosa che ti scappano ti vanno in giro per ok stare attenti sì sì no all'inizio è un classico che ne so il rookie che appena arrivato che apre il box con le buste di caffè a un certo punto vedi 45 buste di caffè ovunque quindi succedono queste cose tre persone da tutte le parti a recuperare a recuperare cavolo e quindi succede nel senso quando arriva un nuovo equipaggio se ci sono appunto delle persone alla prima esperienza succede di tutto i primi giorni beh quindi è perché appunto è difficile credo a ambientarsi riuscire a fare tutte queste queste cose prima hai citato alcune tue colleghe sempre donne no quanto è cambiato questo diciamo questo mondo al femminile anche da quando tu fai l'astronauta tantissimo tantissimo nel 2009 quando sono arrivata io era ancora una cosa non dico esotica perché sarebbe esagerato però è comunque una chiara minoranza ancora nella mia classe del 2009 ero ero l'unica su sei colleghi ma anche la nostra classe gemella negli stati uniti del 2009 comunque erano tre donne su nove meglio che da noi ma comunque poche poi tutte le classi successive americane sono state quasi tutte 50 50 più o meno e anche la nostra di questo gruppetto che abbiamo selezionato adesso sono cinque di cui due donne e tra l'altro si è aggregata a loro un'australiana quindi un'astronauta non nostra è australiana però che si è aggregata a loro per fare il corso quindi così stava facendo il corso proprio 50 50 anche loro ok insomma come è stato per te tu sei stato anche il primo capitano no della stazione comandante per l'europea per l'amore del cielo si si europea però primo comandante europea della stazione sì poi lì nella quotidianità della vita a bordo che tu sia europea o meno non è che cambi niente a nessuno però è importante per noi simbolicamente ecco quella cosa tu come l'hai vissuta una roba che è stata insomma sì ok o l'hai vissuta anche un po con una certa importanza ma ripeto nel senso io l'ho vissuta con un come dire un senso di responsabilità nei confronti del mio lavoro soprattutto cioè di dover fare le cose bene e sicuramente anche insomma contenta che fosse una cosa appunto simbolica anche perché poi vabbè lo è nel senso che chiaramente quando succede una cosa che non era mai successo prima è una speranza per tutti no quindi in questo caso anche tutta la tua figura il tuo percorso sia una figura di grandissima ispirazione per tutti specialmente credo proprio per le per le donne tanto che insomma poi sono successe tante cose no da quando poi tu hai iniziato a esplorare succedevano sulla terra mentre eri su e se sei anche diventata una barbie a un certo punto c'è stata questa insomma c'è stato un momento in cui barbie aveva fatto alcune figure ispirazionali e tra cui samantha cristoforetti come come è stata questa questa più tante altre cose come le hai vissute no è stata una esperienza anche anche bella insomma sono anche molto professionali devo dire diciamo la cosa c'è a parte di una campagna che si chiama che si chiama the dream gap contro il dream gap cioè una cosa che adesso ovviamente non è un'idea però insomma il contesto era il fatto che sia stato osservato come le bambine già in un'età molto tenera insomma età prescolare iniziano a limitarsi sulle cose che sognano ok cioè iniziano già molto presto in qualche modo ad assorbire in maniera immagino inconsapevole come dire un'auto limitazione ma in un senso di dire sì vabbè tutte queste cose qua però sono più per i si 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 bloccano si mettono da solo dei limiti che è difficile capire esattamente però pare che sia stata osservata questa cosa e che quindi magari attraverso il giocattolo riescono possa provare altrettanto inconsciamente immagino ma magari a contrastare questa questa specie di dream gap e che adesso invece in qualche modo quello che stai facendo da veramente speranza per per tutti e a me dai la speranza di riuscire a imparare prima o poi più lingue perché tu quante ne quante ne parli dipende anche di qual livello parliamo beh cinque sono cinque beh cavolo anche perché comunque devi parlare allora parlate presso tutti in inglese no la maggior parte tra di voi tutti nella lingua ufficiale nel mondo europeo americano sì ok e le altre quali sono le altre lingue che conosci il tedesco il francese il russo e mezzo cinese un quarto di cinese sì mi sembra anche un po' abbastanza impegnativa come come lingua e ci sono altre lingue nello spazio non lo so ci sono tu sai che poi le domande che si fanno banalmente qua sulla terra è ci sono altre forme di vita nello spazio altre cose tu che sei stata in alto che idea ti fai di questa di questo ma diciamo che è una domanda che è su un'altra scala sì chiaro chiaro non ci siano forme di vita diciamo nell'universo è una domanda più che legittima su cui nessuno naturalmente può rispondere e su cui il fatto di essere sulla stazione spaziale piuttosto che sulla terra come dire il punto di vista è sempre quello sempre sempre qui siamo nel nostro piccolo angolo di spazio e eventuali forme di vita nell'universo sono naturalmente molto lontane potrebbero esserci delle parla adesso di potenziali vita intelligenti potrebbero esserci delle forme di vita molto molto semplici nel nostro sistema solare parliamo probabilmente di eventualmente se li troviamo di microorganismi per esempio su marte questa è una grande domanda aperta uno dei motivi per cui vogliamo andare su marte ci mandiamo anche dei rover eccetera è proprio questo di capire se c'è vita beh questo io credo ti affascini perché sei anche una grande appassionata di fantascienza e insomma hai dato prova credo che tu abbia esaudito il sogno di qualsiasi fan di star trek indossando la divisa nello spazio facendo il simbolo insomma sono tolta quanto ci hai pensato a quella cosa io quando arriverò lì la devo fare questa cosa in realtà era nata addirittura diversamente nel senso che io sono appunto sono cresciuta da ragazzina con questa passione sfegatata per star trek e a 17 anni ho fatto un anno di scambio negli Stati Uniti e mi sembrava di essere arrivata in paradiso perché abituata a che ne so recuperare qualche puntata di star trek a luna di notte in replica in Italia oppure che ne so arriva una nuova serie di star trek in Italia arriva tre anni dopo doppiata appunto a luna di notte eccetera arrivano negli Stati Uniti star trek ovunque due ore ogni giorno alla televisione le nuove serie live mentre vengono trasmesse eccetera e mentre ero là ci fu la inizio voyager per chi se lo ricorda insomma adesso sembra una banalità perché tutte le tutte le astronave hanno comandanti donne ormai ma all'epoca era la prima comandante di un'astronave di star trek che era il famoso captain janeway e io ero là quando partì voyager e fast forward vent'anni ero nello spazio cioè gennaio 1995 gennaio 2015 quindi in realtà avevo portato quell'uniforme per onorare questo anniversario magari anche con la speranza di poter fare qualcosa con l'attrice che interpretava gennaio e che però non si è riuscito a fare però l'uniforme ce l'avevo beh che figata questo rende tutto più umano non so come dire quindi quel anche la visione semplicemente di una serie in qualche modo ha cambiato la tua un po la prospettiva no la tua i tuoi sogni o tu sei sempre partita che volevi fare quello che poi stai facendo adesso no io sapevo già che volevo fare l'astronauta però penso che la la passione per star trek ha aiutato sicuramente quindi attenzione nella famosa fai da star trek star wars tu c'è star trek tutta la vita sì 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 non c'è proprio partita mi sembra di mi sembra di capire che non c'è ma vabbè ci sta e poi soprattutto stare attenti a cosa fate vedere i vostri figli perché potrebbero poi esatto quella è un'altra grande è un'altra grande responsabilità anzi magari però come vediamo sono aumentate vertiginosamente tutte le anche le iscrizioni questa è una veramente una grande una grande figata insomma te io ti ti ringrazio un casino per questa per questa chiacchierata anche perché poi alcune domande erano insomma proprio curiosità no perché noi ripeto osserviamo osserviamo tutto da qui cerchiamo di capire qualcosa ma è grazie a voi che siete lì che state insomma facendo delle cose anche anche per noi e spero che insomma questa cosa si sia anche capita da tanti da tanti discorsi tu hai hai un sogno ancora ne stai esaudendo anche tanti grazie al duro lavoro al sacrificio eccetera c'è ancora un tuo un tuo sogno particolare sì diciamo che i miei sogni si sono spostati un po dagli come dire da soddisfazioni personali a cose più in prospettiva di cosa voglio lasciare anche i miei figli come società come italia come europa e quindi forse il mio grande sogno che è che si realizzi questa questa capacità di di trasporto umano europea quindi che abbiamo anche noi una nostra astronave con la quale far volare i nostri astronauti che comunque possiamo anche invitare far volare astronauti di altri paesi da noi è questa un po è un'ambizione che farebbe bene farebbe bene a tutti l'ultima cosa che ti volevo chiedere mi sono dimenticato poi abbiamo citato velocissimamente la luna come mai la luna è stato un momento in cui già la luna è per noi il simbolo forse più potente no che ha a che fare con con lo spazio e come mai c'è stato un momento in cui c'è stata grande attenzione su quello per motivi probabilmente anche politici eccetera e poi in questi anni invece non si è più tornati sulla luna detto banalmente a perché un programma che in un certo senso se vogliamo finì ancora prima di cominciare nel senso che ancora prima che ci fosse l'allunaggio vero e proprio del 69 era già stata decisa la fine del programma era sarà esaurito diciamo l'interesse l'interesse politico soprattutto nel supporto poi anche all'interno della della società americana quindi è un programma che prese un grosso abbrivio soprattutto per la per la competizione però poi si esaurì questa spinta e ripeto si decise la fine del programma Apollo ancora prima che ci fosse ci fosse l'allunaggio quindi c'era già il limite a quelle missioni che poi furono furono realizzate con l'idea poi di continuare naturalmente l'esplorazione spaziale ma meno con una logica di arriviamo prima sulla luna e più con una logica di ok come costruiamo adesso un programma di esplorazione spaziale sostenibile e quindi la logica era naturalmente ok torniamo un attimo sull'orbita bassa e consolidiamo la presenza lì poi luna marte ovviamente all'epoca l'idea che nel giro di qualche decennio si sarebbe fatto tutto poi già gli dissero dovete scegliere o una stazione spaziale o uno shuttle che fa e quelli dissero vabbè se io costruisco la stazione spaziale senza shuttle non serve a niente quindi iniziamo con lo shuttle ok dopo appunto una decina d'anni ci fu il volo inaugurale dello space shuttle poi anche grosse difficoltà a caso dell'incidente challenger eccetera space shuttle si rivelò molto più costoso e complicato da un punto di vista tecnico di quello magari che ci si era augurati quindi insomma anche un pochino di scontro con la realtà delle cose stazione spaziale poi come programma successivo che ebbe insomma un po di difficoltà di avviamento rischiò di essere cancellata in congresso credo che si salvò per un voto poi però insomma il programma fu avviato si coinvolsero i russi sia in un'ottica di relazioni internazionali di geopolitica sia in un'ottica proprio anche di risparmiare però anche lì si decide il programma ma poi è partito alla fine degli anni 90 diciamo che i tempi sono un po lunghi perché insomma ovviamente sempre in competizione con altre esigenze il programma il programma spaziale quindi poi una volta avviata la stazione spaziale c'è fu un altro tentativo di bush figlio di riavviare un programma serio di esplorazione lunare che si chiamava constellation che però era under funded cioè rispetto alle ambizioni non c'era mai un budget sufficiente poi arriva obama e lo cancellò quindi per le due amministrazioni obama si parlava di andare sugli asteroidi perché perché la luna non interessava più poi con la fine dell'amministrazione obama poi si è ritornato ad avviare un programma lunare che quello che è in corso adesso Artemis che questo però questo è avviato veramente adesso e ha sopravvissuto al cambio di amministrazione quindi l'amministrazione quando cambia l'amministrazione bisogna sperare che tengano come questo tenuto e ormai anche embedded in tutta una serie di cooperazioni internazionali con un sacco di contratti avviati eccetera io penso che questa sia la volta che si possa tornare da quelle parti a fare a fare un giro ma proprio quando quando sei su e vedi tutto dall'alto no a parte cosa provi ma ti dà una prospettiva diversa sul sul mondo sulla vita in generale vederlo da lassù ah sicuramente ti dà ti dà un ti dà un'idea della scala globale quindi quando pensi a problemi che hanno per natura una scala globale come può essere quello principe se vogliamo anche quello del cambiamento climatico che non è la non è l'apocalisse cioè non è nel senso non siamo con lo dico perché so che ci ascoltano molti giovani mi dicevi ogni tanto mi dicono che i giovani sono disperati perché hanno una difficoltà a immaginarsi il futuro a causa del cambiamento climatico un problema serio una crisi importante ma la risolviamo abbiate fiducia rimboccatevi le maniche diamo come dire guardate a questo problema non con paura paralizzante ma si usiamo lo come come dire l'ansia trasformiamola in una voglia di trovare soluzioni ai problemi ma si troveranno cioè vorrei dare anche un messaggio un po di più e più fiducia nel nella nostra capacità di risolvere questi problemi questa era una parentesi però no però è importante nel senso secondo te questo questo problema che c'è è risolvibile da noi da noi stessi cioè cambiando le nostre abitudini o come no penso che nel senso ovviamente poi ognuno può dare il suo contributo però ovviamente le soluzioni quelle che veramente cambieranno le cose io penso che saranno soprattutto tecnologiche la capacità di decarbonizzare alla fine vuol dire che tu tante delle dei pilastri delle delle nostre economie delle nostre società che adesso sono basate sul sull'uso di combustibili fossili e non solo solo i combustibili fossili anche l'emissione di di ciudo nell'atmosfera da processi industriali tutte queste cose devono essere ripensate da un punto di vista tecnologico per avere dei dei processi che siano zero carbon quindi non è non sto dicendo che è una cosa facile una cosa che sicuramente costa che necessita di investimenti che necessita di sviluppo tecnologico di innovazione di anche di capacità proprio organizzativa perché quando poi tu devi cambiare delle interi industrie anche capacità manageriali organizzative eccetera quindi richiede tante risorse ma non è impossibile un bel segnale di speranza in generale quindi e questa è una delle cose che guardando da su in qualche modo riprospettivi anche ma sì perché sai forse da lassù uno uno pensa spesso questa cosa vedi la terra piccola quindi la connessione eccetera sì anche questo però forse ti dà anche un'idea dei tempi dei tempi lunghi delle cose no quando quando guardi le cose da lassù forse si tutto rallenta un pochino e quindi tu dici sì adesso siamo nel mezzo di questa crisi e quindi uno gli sembra che non ne usciamo però voglio di no nei tempi lunghi ne usciamo ne usciamo cioè non voglio togliere urgenza no 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 è chiaro però urgenza non vuole dire panico quello no anche perché per quello che fai anche tu non puoi avere panico non puoi cioè credo che il panico non sia contemplato è mai capitato di avere una situazione di panico no panico per fortuna no ok per fortuna speriamo che non che non ci sia grazie davvero grazie grazie a te ci risentiamo spero ti abbia fatto piacere perché è un qualcosa grazie della della chiacchierata di particolare grazie perché sono certo che appunto tanti ragazzi ma non solo saranno ispirati dalle tue parole magari qualche astronauta in più ce lo portiamo a casa in attesa di avere la nostra di avere la nostra navicella adesso la nostra no com'è il termine astronave possiamo dire astronave perché astrona sì suona un po fantascientifico però è giusto così e a noi ci piace così grazie davvero Samantha Cristoforetti è passata dal basement